Ciao ragazzi, come state? Allora, voglio fare questo video per due motivi. Uno, perché mi sono reso conto che tante volte questo tipo di argomenti vengono spesso sottovalutati e per spesso intendo proprio che tante persone pensano che sia una cosa normale non parlarne oppure pensano che sia una cosa che esce effettivamente alle persone di dire ah sì, io organizzo così la mia giornata, eccetera. Mi sono reso conto inoltre che questa è tra l'altro la cosa più importante di tutte nel senso che io ho Musa, Musa Mare il coach che mi segue, vi lascio comunque il profilo qua sotto ovviamente per chi lo sa perché spesso ho messo storie di questa cosa e mi sono reso conto di quanto effettivamente quando ogni volta che lui mi diceva guarda organizziamoci la giornata così, organizziamo la giornata così, io dicevo ok va bene e poi magari non la seguivo, mi rendevo conto di quanto le cose andavano male quando poi ho iniziato di nuovo ad ascoltarlo e ho iniziato di nuovo a fare come diceva lui quindi assegnarmi le cose da fare, i blocchi dell'orario e tutte queste cose qua mi sono reso conto che cazzo la cosa serve veramente inoltre mi sono anche reso conto facendo un viaggio indietro, diciamo con la testa del quanto in realtà io quando lavoravo come, quando lavoravo ancora come cameriere non organizzavo così la giornata e se avessi organizzato così la giornata sarebbe poi andata bene e tant'è che poi ho anche segnato, mi ho anche dato un tips, un insight di com'era poi all'inizio la mia giornata quando iniziavo, quando lavoravo e del perché poi sono finito in burnout quindi niente adesso vi faccio vedere direttamente qua il foglio che ho preparato e poi vi faccio vedere anche il mio Google Calendar per farvi vedere come mi organizzo la giornata quindi vediamo allora, come organizziamo la giornata? quindi che tu abbia un lavoro part time o full time che sia nel range da 0 a 10 mila al mese che tu sia dai 10 ai 30 mila al mese e dai 30 mila euro poi a scalare in su quindi partiamo con il lavoro part time full time che è quella, diciamo la parte, è la prima tra le cose allora, ovviamente avere un lavoro che sia part time o full time significa dover fare per forza molta attenzione a come viene organizzata la giornata perché? perché sta tutto nel trovare il momento migliore, i momenti migliori per ottimizzare le performance e per ovviamente non andare nello stress e non uscire nella burnout zone questo perché? perché quando io lavoravo ho avuto questo periodo dove diciamo io lavoravo dalle 10 e mezza dove iniziare 11 ma vabbè, lavoravo dalle 10 e mezza fino alle 3 e poi riniziavo alle 6 e chiudevo a 11 e mezza, mezzanotte e io lavoravo la mattina, poi dopo pranzo e poi la sera e questa cosa ovviamente, quindi lavoravo 2-3 ore la mattina tutto il tempo il pomeriggio, quindi dalle 3 alle 6 e poi la sera lavoravo fino alle 2 alle 3, poi mi mettevo a dormire e poi riniziavo così, mi svegliavo magari alle 7 e quindi questo mi ha fatto andare per un bel periodo e mi ha fatto andare in un bruttissimo burnout perché? perché giustamente il corpo non è abituato ad avere una routine del genere quindi iniziate a stressarvi, si alza ovviamente il livello dello stress siete più arrabbiati, un sacco di cose ovviamente psicologiche, mentali ma che effettivamente poi hanno un grandissimo esito su di noi e quindi bisogna dividere bene queste cose se hai un part-time, io avevo un full-time non so se dire purtroppo o per fortuna ma comunque avevo un full-time quindi avessi avuto un part-time così avrei sfruttato bene la mia giornata quindi avrei detto ok, io lavoro dalle 7, esempio dalle 10 alle, non lo so quanto si lavora in un part-time, 5 ore dalle 10 alle 3 ok, la mattina l'avrei utilizzata per mettermi e sfruttarmi cioè sfruttare tutto quel tempo per focalizzarmi su quello che dovevo fare in quel periodo quando ho iniziato io stavo studiando per fare e-commerce per fare drop quindi avrei sfruttato tutto quanto sul ok, come esempio si cerca il prodotto, come si fa questo, come si fa quello le ad, si studia, queste cose qua invece avendo un full-time e questa è sicuramente la cosa più difficile perché si ha tutta la giornata piena inoltre la fascia migliore è sicuramente la sera perché dalla mattina si inizia presto dalla sera si finisce tardi il pomeriggio si pranza e quindi non c'è altro però ad esempio ho notato la fascia migliore sicuramente è quella della sera finito lavoro perché? perché si torna a casa ci si rilassa non bisogna stare dietro ad altre cose non bisogna stare a rispondere a troppe persone non bisogna stare dietro ai messaggi e a tutte le altre cose si può stare a casa tranquilli magari subito anche dopo cena può essere tranquilla come cosa in modo che noi siamo rilassati non dobbiamo dire cavolo fra un'ora o due devo tornare al lavoro devo timbrare tutte ste cazzate qua e quindi una volta tornati a casa ci si focalizza su quello che c'è da studiare o da fare e ovviamente qua voglio dare un disclaimer perché qui stiamo parlando perché ovviamente se stai studiando o per fare il tuo business online o per arviare quella che è magari un'attività di drop di consulenza di agency quello che è sicuro sicuro se stai lavorando o studi qualcosa è perché effettivamente tu vuoi lasciare il tuo lavoro e per favore non venite a scrivermi ah no non è vero io mi trovo bene non voglio lasciarlo ah no io mi trovo bene non voglio andarmene perché dentro non vi trovate bene se no non stareste neanche guardando questo video per assurdo quindi in questa fase in questa fase non esiste la pausa non esistono le uscite al bar non esistono le serate non esistono i gossip gli amici le cazzate queste cose qua il drama e tutte queste cose qua questo ve lo dico perché io l'ho vissuto in prima persona io ho vissuto proprio il l'ho vissuto proprio il periodo dello studiare del lavorare eccetera e nonostante ciò vivere tutte queste cose quindi vivere le serate vivere l'uscita al bar vivere il gossip vivere le relazioni e tutte queste cose qua e questa roba mi ha molto molto penalizzato perché avrei lasciato il lavoro molto prima ma questa vabbè è una cosa che sono grato di aver affrontato perché qua poi stiamo parlando di raggiungere un obiettivo che richiede disciplina rispetto a competenze perché all'inizio noi non dobbiamo avere chissà che competenze dobbiamo risolvere la disciplina di dire ok questo è quello che c'è da fare facciamo il lavoro che c'è da fare facciamo quello che c'è da fare per il minimo che sappiamo una volta che abbiamo i primi risultati che possono essere per alcuni i 2000 euro al mese i 1500 euro al mese i 1000 euro al mese io personalmente appena ho visto il primo giorno che ho fatto quasi K-Day con uno dei miei store mi sono licenziato ho detto ok perfetto io non voglio più lavorare di netto avevo fatto magari 200 euro però quello è stato il è stato proprio il momento che mi ha fatto cambiare quindi quello è stato tutto e qui ti posso garantire vi posso garantire quando si sfruttano queste poche ore nel modo migliore nel miglior modo possibile e quindi si si rinuncia alle uscite si sacrificano le cose e cazzate varie vedete che nel giro di pochi mesi avrete raggiunto l'obiettivo non dico per forza avete raggiunto i 15.000 euro al mese i 30.000 euro al mese però vi posso garantire che se il vostro obiettivo è uscire dal lavoro togliere finalmente dire ok mi sono licenziato lavoro per me stesso eccetera vi posso garantire in pochi mesi seguite ste cose e vi posso garantire che succede perché avete già una routine schedulata nel senso che sapete vi dovete svegliare andare al lavoro eccetera ma se avete il tempo prima o dopo dovete sfruttarlo tutto per cioè dovete dare il massimo per arrivare poi ad uscirne lo so e tanti dicono ah sono stanco eh ma voi non siete veramente stanchi perché abbiamo 20 anni c'è gente che può avere 30 anni ok ma è veramente difficile cioè è un brutto segnale che a 20 anni vi diciate eh non lo so sono stanco dopo lavoro di mettermi un po' al pc e studiare perché vuol dire veramente un brutto segno comunque questo è il primo step passiamo da 0 a 10.000 al mese quindi mettiamo caso tu non abbiamo lavoro o perché ti hanno licenziato o perché ti sei licenziato tu o perché sei appena uscito da scuola che è una cosa molto eh molto comune e molto fattibile quindi la cosa più importante da identificare in questo momento è quello che hai e la cosa più importante che hai in questo momento è il tempo perché perché puoi letteralmente lavorare dalla mattina alla sera non ti devi preoccupare dei capi dei ritardi dei richiami di questo ah ma hai lasciato la stufa accesa ah ma i termosifoni sono lasciati accesi in cantina ah ma se poi prende fuoco per favore vai a chiudere e e questa è una cosa che mi è capitata perché mi è capitato è capitato a un mio collega è stato chiamato alle 4 di notte eravamo in discoteca in quel momento è stato chiamato per andare a spegnere i termosifoni che erano al ristorante alle 4 del mattino e me lo ricordo bene mi ricordo anche il giorno tutto mi ricordo quindi in questo in questa fascia la cosa più importante è capire quello che si ha capire che si ha tempo e ovviamente anche in questo caso bisogna avere disciplina perché perché bisogna lavorare non bisogna stare al pc bisogna lavorare non bisogna stare al pc perché tanti fanno l'errore che lavorano cioè che dicono di lavorare però in realtà poi magari stanno solo al pc e quindi stanno su instagram stanno su tiktok su telegram girano e questo e quello e quell'altro giocano in realtà non è stare non è lavorare è stare al pc quindi bisogna vedere come fare effettivamente deep work fatto per bene adesso vi ho dato un outline vi ho scritto qua un outline della routine che tra l'altro è la stessa che seguo io e inoltre se vi posso dare un consiglio state veramente attenti focalizzatevi sul lavorare all'inizio lavorare poco ma lavorare bene perché lavorare hard work queste cose qua ha senso solo se lavorate perché se dite hard work state 12 ore al pc ma ne lavorate 3 non state facendo hard work siete stupidi due volte perché non state lavorando e state dicendo cazzate allora passiamo e partiamo alla routine quindi allora una delle routine che si possono seguire che tra l'altro è quella che seguo io può essere sveglia e morning routine e tra l'altro la mattina si sta alla prima ora del giorno senza toccare il cell perché perché mi è capitato più volte che magari mi svegliavo stavo al pc stavo al cell e passavo 40 minuti al cell quindi cosa fare esempio mi sveglio alle 8 il telefono lo posso usare dalle 9 in poi ovvio se è una cosa urgente non dico bisogna bisogna per forza però è raro che ci sia qualcosa di urgente subito subito la mattina quindi cosa si fa dalle 8 alle 9 oppure da quando vi svegliate a un'ora dopo che vi siete svegliati non potete usare il telefono io ad esempio mi sveglio alle 8 come qua vedete questa è la routine mi sveglio alle 8 alle 8 e mezza faccio colazione stretching cioè dalle 8 alle 8 e mezza più o meno è il tempo che ho visto che ho notato tra svegliarmi meditare tutte queste cose qua colazione io faccio colazione stretching e da lì poi parte le cose che vi dico adesso quindi primo blocco di due ore è la cosa più importante che dovete fare può essere la ricerca prodotto può essere l'outreach può essere l'auditing se state facendo trading può essere penso l'analisi del mercato l'analisi delle monete questa roba non le so però di base questo è il primo blocco infatti come vedete io ho dalle 9 alle 11 bloccate solo su questo quindi sull'outreach lead prospecting eccetera dopodiché abbiamo dopo questo primo blocco c'è un secondo blocco che però è di solamente un'ora perché è la seconda attività più importante quindi il primo il primo passo più importante per me in questa fase della mia agency dove voglio scalare dalla cifra a cui sono adesso a 100.000 euro al mese non posso occupare più di un tot della giornata devo occupare per forza due ore della giornata a fare questo perché è la cosa che mi sta portando al momento più risultati eccetera e quindi questa è la cosa che devo fare di più secondo blocco da un'ora dedicato alla seconda cosa più importante come vi ho detto in questo caso il content tra l'altro sono le 2.46 state vedendo che appunto adesso in questo momento sono le 2.46 il blocco di registrare contenuti ce l'ho alle 11 ma nel deep work vi spiego il perché di questa cosa quindi agli inizi può essere ad esempio come ho detto creare il content potete stare a vedere creare lo store creare le ad e tutte queste cose qua e ovviamente dopo aver fatto questo secondo blocco di mezzo può esserci il pranzo se mangiate alle 12 se mangiate all'una dipende quello che volete fare io personalmente mangio alle 12 perché ho fame sempre quindi prima mangio ma io è e da lì dopo il blocco del pranzo o prima a seconda di dove l'avete messo mettere un blocco di studio il blocco di studio può essere o formazione quindi studiate un corso o qualcosa dovete leggere un libro dovete ascoltarvi un podcast dovete guardare un video però intendo proprio full commitment su quello perché io anche lavoro con i podcast lavoro con i video in sottofondo ma quello non è studio quello è mentre lavori ce l'hai di sottofondo studio intendo proprio prendere un'ora dove non faccio nient'altro a parte guardare quel video e studiare quella cosa in questo caso ho messo sales training block perché? perché voglio migliorare in vendita voglio migliorare ancora di più quella che è la mia skill della vendita e quindi questa è una cosa che ho messo e tra l'altro poi vi farò vedere io ho anche il secondo blocco di studio che è quello del reading block e da qua poi capirete capirete la fase della revenue mensile ovviamente dedicare l'ora allo studio perfetto dopo il blocco dello studio arriva il blocco più bello perché? perché sono 3-4 ore di deep work sì non sono 7-8 come tanti vi dicono fate 12 ore perché all'inizio ve lo dico è difficile fare 7 ore di puro 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 deep work che proprio state lì non vedete niente cuffie non sentite niente eccetera perché è tosta perché se non siete abituati come si fa una cosa del genere nel senso se voi siete abituati a lavorare un'ora e mezza così come fate 8 ore fissi a non alzarvi o altro quindi quello che c'è da fare sono 3-4 ore fate tutte le task che ritenete secondarie o magari sono importanti ma che non sono nei primi due blocchi in questo caso per me ad esempio io ho messo outreach lead prospecting il primo blocco che è la cosa più importante seconda cosa più importante è creare il content che nel senso è la cosa per me anche può essere la prima cosa più importante ma quella che mi porta più soldi è questa quindi è quella che continuo a fare ma dalle 2 alle 8 sì alle 8 io quello che faccio è semplicemente stare full focus sul creare magari se devo gestire dei clienti se devo fare delle chiamate con il team se devo fare delle chiamate di lavoro se devo fare delle call con i clienti se devo fare qualsiasi altro tipo di attività e tra l'altro spesso quando finisco di fare queste cose perché nel deep work voi lavorerete talmente tanto quando lavorate nel deep work vi rendete conto che quello che fate magari in un giorno voi potete farlo in 2-3 ore e il bello è quando io finisco di fare deep work mi metto a proseguire una di queste due cose la cosa che mi piace di più fare è il content quindi io magari in questo deep work mi metto anche a scrivere quelli che sono questi documenti per i video e quindi poi quando ho finito e dico cazzo ho finito tutto cosa mi metto a fare mi metto semplicemente a continuare a fare altri video perché? perché ho finito tutto non è che se voglio dire ok ho finito basta sfrutto io dalle 2 alle 8 lavoro fine quindi è questo poi finito questo blocco diciamo che potete prendere la sera per riposarvi non è per riposarvi ma è per ricaricarvi per ricaricare le batterie se volete studiare ancora se volete fare una qualsiasi cosa se volete uscire mangiare fuori non c'è nessun tipo di problema la sera inoltre un'ora e mezza prima di dormire io come vedete qua vado a letto praticamente alle alle andrei a letto a mezzanotte cioè andrei a letto in realtà alle 11 cioè alle 11 io già sono KO però ho messo la night routine alle 10 e mezza e ho sbagliato scusate quindi un'ora e mezza prima di dormire o mezz'ora quello che è staccate completamente tutto che sia pc che sia telefono che sia qualsiasi cosa le luci io quello che faccio è ho i led qua in camera metto le luci diciamo diffusione se così si può dire le luci soffuse ecco le luci soffuse mi metto a meditare e poi mi metto a dormire questa è la mia night routine ma poi mi farò anche magari un video proprio specifico su com'è la morning routine night routine tutta daily routine morning routine queste cose qua e questo è il primo blocco se state inizio cioè questa è l'outline della routine se state iniziando che siate da 10 a 30.000 che siate da 0 a 100.000 che siate da 0 a 10.000 che siate a 500.000 questa è una routine che ho notato serve tanto nel senso che avete tutto potete ovviamente come qua vedete non c'è allenamento non c'è altro perché perché per me rientra a volte qua nel pomeriggio può rientrare a volte nella mattina dipende veramente come me la sento lo faccio rientrare non è un problema però comunque avete veramente una routine molto flessibile passiamo adesso dai 10 ai 30.000 quindi avete fatto i primi soldi avete i vostri clienti avete i vostri store state facendo tutto bravissimi dai 10 ai 30.000 qua è la fase che ho notato ne stavo parlando ieri che sono uscito avuto un incontro ho parlato di questa cosa ho detto cavolo alla fine che se ci penso dai 10 ai 30.000 è la parte che può essere più difficile da capire perché perché la cosa più importante è quello di creare è la parte della creazione dei sistemi e della delega di questi ultimi quindi dovete creare dei sistemi che può essere la ricerca prodotto può essere le ad può essere qualsiasi cosa create questi sistemi e poi li delegate perché perché quando fate questo avete il tempo per migliorare altri aspetti migliorare altri sistemi e delegare quei sistemi quindi esempio la ricerca prodotto lo state facendo voi vi prende due ore al giorno perfetto create un modo per poterlo fare prendete un'altra persona delegate questo sistema avete due ore delegate a uno che ci mette tutto il giorno a farlo quindi voi in due ore che avete cioè voi vi siete risparmiati due ore per avere un risultato di una cosa per otto ore quindi magari la persona lavora otto ore cinque ore al giorno voi lavoravate due ore al giorno adesso voi state pagando una persona che è il cui unico focus è fare quell'azione per tutto il giorno quindi automaticamente diventerà brava forte e tutto quanto e quindi la routine è la stessa quello che cambia è il tipo di lavoro che viene messo in mezzo quindi non sarà la call con il team non sarà scusate non sarà la ricerca prodotto ma sarà magari la call con il team sarà la call per assumere i membri sarà la call per non so gestire i clienti sarà la call per capire come fare le ad sarà magari la call con il fornitore possono essere tante di queste cose e avendo più tempo a disposizione poi perché appunto avete le cose delegate la cosa che consiglio io è quella di mettere due blocchi di studio quindi potete mettere un blocco di studio dopo pranzo potete mettere un blocco di studio prima di dormire io per quello ho due blocchi di studio uno dopo pranzo e uno prima di dormire che tra l'altro quello prima di dormire è solamente dedicato alla lettura e questo è solamente dedicato al sales anche nel deep work qua io deep work intendo tutto nel senso che tante volte mi ascolto podcast eccetera magari finisco di lavorare non faccio video perfetto non faccio outreach perfetto mi metto a studiare non è assolutamente un problema qual è la cosa perché perché quando avete questo tipo sia di cash flow che comunque di stabilità eccetera potete comunque sfruttarlo a vostro vantaggio questa cosa e inoltre passiamo allo step finale che è quello che è quello a cui diciamo cerco di diciamo di raggiungere il prima possibile ma ovviamente intendo a livelli molto più grandi è quello di dai 30.000 in su ossia che qua si parla solamente di volume nel senso di se volete scalare da 30 a 50.000 l'ho notato non cambia non dovete cambiare quello che state facendo ma ha cambiato il quanto ne state facendo se voi testate esempio parlo parlo spesso di commerce perché è l'unica cosa che mi viene in mente assieme all'agency che ha esempi fattibili perché non so il trading non so le crypto quindi non voglio sparare cazzate per esempio se voi testate 7 prodotti a settimana e fate 30.000 euro al mese cosa non lo so se è possibile o meno ma comunque testate 7 prodotti a settimana e fate 30.000 euro al mese provate a passare a 14 e vi faccio vedere come passate da 30 a 60 al mese in niente se mandate 100 messaggi al giorno e fate 30.000 euro al mese passate da 100 a 200 messaggi al giorno e vi faccio vedere quanto fate in più perché voi dovete fare anche il calcolo nel lungo termine nel senso che voi dovete fare se allora vi faccio un calcolo al volo nel senso noi facciamo 7 a settimana quindi 7 per 4 e ovviamente voi state testando 28 prodotti a settimana so fare calcoli è solo per farvi vedere a voi quindi voi state testando 28 prodotti al mese scusate quando iniziate a fare 14 a settimana dite cazzo sono 56 prodotti è vero che basta fare per 2 però non vi rendete conto di quanti sono in più 56 prodotti è quello che dico esempio io vi ho detto adesso mandate 100 esempio 100 messaggi al giorno perfetto 100 messaggi al giorno se un mese c'ha 30 giorni quanto ha? 3000 provate a mandare 200 messaggi al giorno per 30 giorni direte cazzo ho mandato 3000 messaggi in più e ovviamente anche qua si può usare sempre quello che può essere un conversion rate esempio mandate 6000 6000 messaggi avete un tasso di portare in chiamata del 60% quindi 6000 persone meno il 60% che portate in chiamata portate in chiamata 2400 persone perfetto avete un tasso di chiusura dell'80% perché può essere vero quindi meno 80% poi avete chiuso 1900 poi avete chiuso 480 persone con un ticket medio di 3000 cliente fate il calcolo di quanto avete fatto quindi capito che è tutta roba è tutto un gioco di numeri e di volume assieme a progetti perché? perché se volete sviluppare un altro progetto oppure entrare in un altro settore quindi volete fare dall'e-commerce all'e-crypto o dall'e-commerce all'agency o dall'agency all'e-commerce e così via si torna sempre alle basi quindi si torna nel mettere i primi blocchi capire che cosa serve la cosa più importante la seconda cosa più importante di work tutte queste cose qua ok perfetto quando l'avete fatto avete la stabilità per prendere qualcun altro e delegare questa cosa perché magari lui la sa fare già meglio di voi infatti focalizzatevi su questo se voi le cose non sapete farle fatele fare a chi le sa perché dovete perdere tempo e perdere soldi ed energia e tutto in cose che potete tranquillamente delegare e quindi quando si fanno questi numeri si riesce sempre a trovare qualcuno a cui poter poi delegare e quindi si fa leva con il denaro sfruttando il mito il il classico mantra dei classici consigli degli esperti di finanza ossia fate lavorare il denaro per voi perché in questo modo voi fate lavorare il denaro se mettete i soldi davanti i soldi lavorano per voi voi fate lavorare il denaro voi non dovete mai più lavorare in vita vostra perché lavora solo il denaro ecco ecco l'obiettivo ecco l'obiettivo che bisogna raggiungere ecco quello a cui io sto puntando ultimamente quindi è questo il goal a cui sto puntando ultimamente nel senso sono in questa fascia di focus ultimamente adesso ovviamente ci sono stati alcuni problemi ma voglio spiegarveli più avanti anzi ho già preparato un video dove vi spiego quali sono stati i problemi ma di base è questo mettete mettetevi il primo blocco della mattina dedicatelo a voi stessi non guardate il telefono non pensate al resto mettetevi subito in grind mode dalla mattina fino all'ora di pranzo mangiate cibatevi caricatevi non mangiate pesante perché sennò vi impaccate studiate iniziate a lavorare fate magari può essere io ho messo dalle 2 alle 8 potete fare dalle 2 alle 5 se ve la sentite fate anche dalle 2 alle 4 fate dalle 14 alle 16 2 ore ma anche un'ora basta che lavorate bene vi rendete conto che se lavorate bene non c'è niente letteralmente niente che vi può fermare perché avete tutto quanto in testa avete tutto quanto qua dentro che vi fa andare avanti la sera tenetevi la libera la sera prima di dormire potete tenervi la libera io personalmente mi sono messo il blocco della lettura un'ora e mezza prima di dormire mezz'ora prima di dormire night routine vi mettete a dormire e qui è fatto niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto alla prossima